La crisi del mondo moderno di René Guénon Voce di Marisa Vacca Capitolo I L'età oscura La dottrina hindù insegna che la durata di un ciclo umano, a cui dà il nome di Manvantara, si suddivide in quattro età, le quali segnano altrettante fasi di un oscuramento graduale della spiritualità primordiale. E si tratta degli stessi periodi che le tradizioni dell'antico occidente indicavano come le età dell'oro, dell'argento, del bronzo e del ferro. Attualmente noi ci troviamo nella quarta età, il Kali Yuga o Età oscura. E si dice che ci troviamo in essa da più di 6.000 anni, vale a dire da un'epoca di molto anteriore a tutte quelle conosciute dalla storia classica. Da allora le verità, un tempo accessibili a tutti, sono diventate via via sempre più nascoste e difficili da raggiungere. Coloro che le posseggono sono via via sempre meno numerosi. E se il tesoro della saggezza non umana, anteriore a tutte le età, non può mai perdersi, essa si ammanta di veli sempre più impenetrabili, che la dissimulano agli sguardi e sotto i quali è estremamente difficile scoprirla. Ecco perché, con i simboli più diversi, si parla ovunque di qualcosa che è andato perduto, almeno in apparenza e in relazione al mondo esteriore. Qualcosa che deve essere ritrovato da coloro che aspirano alla conoscenza. Ma è detto anche che ciò che è così nascosto ritornerà ad essere visibile alla fine di questo ciclo, la quale, in virtù della continuità che collega ogni cosa, sarà al tempo stesso l'inizio di un ciclo nuovo. Senza dubbio ci si chiederà perché lo sviluppo ciclico deve svolgersi in un tal senso discendente, dal superiore all'inferiore, corrispondendo, come si nota con tutta evidenza, alla negazione stessa dell'idea di progresso, così come intesa dai moderni? Il fatto è che lo sviluppo di ogni manifestazione implica necessariamente un allontanamento, sempre più ampio, dal principio da cui essa deriva. partendo dal punto più alto, essa tende necessariamente verso il basso, ed esattamente come i corpi pesanti, vi tende con un moto incessantemente crescente, fino a quando non incontra un punto di arresto. Questa caduta potrebbe essere caratterizzata come una materializzazione progressiva, poiché l'espressione del principio è pura spiritualità. E parliamo della sua espressione, e non del principio stesso, poiché questo non può essere designato con nessuno dei termini che sembrano indicare una qualunque opposizione, dal momento che è al di là di ogni opposizione. D'altronde, termini come spirito e materia, che qui per comodità mutiamo dal linguaggio occidentale, per noi hanno solo un valore simbolico, e in ogni caso potrebbero realmente corrispondere a ciò di cui si tratta solo a condizione di eliminare le interpretazioni speciali che dà di loro la filosofia moderna, il cui spiritualismo ed il cui materialismo sono per noi solo due forme complementari implicantesi a vicenda e parimenti trascurabili per chi vuole elevarsi al di sopra di tali punti di vista contingenti. D'altra parte, in questa sede non ci proponiamo di trattare di metafisica pura, ed è per questo che, senza perdere di vista i principi essenziali, possiamo permetterci di usare, pur prendendo le precauzioni indispensabili per evitare ogni equivoco, dei termini che, anche se inadeguati, si prestano a rendere le cose più facilmente comprensibili, almeno nella misura in cui ciò è possibile, senza arrivare a snaturarli. Ciò che dicevamo a proposito dello sviluppo della manifestazione, pur essendo esatto nell'insieme, si presenta tuttavia come troppo semplificato e schematico, in quanto può far pensare che tale sviluppo si effettui in linea retta, secondo un senso unico e senza alcuna oscillazione di sorta. La realtà è ben più complessa. In effetti, come peraltro abbiamo già detto, in tutte le cose occorre considerare due tendenze opposte, l'una discendente e l'altra ascendente, o, se si vuole usare una diversa rappresentazione, l'una centrifuga e l'altra centripeta. Ed è dal prevalere dell'una o dell'altra tendenza che derivano le due fasi complementari della manifestazione, una di allontanamento dal principio, l'altra di ritorno verso il principio, le quali spesso sono equiparate simbolicamente ai movimenti del cuore o alle due fasi della respirazione. Nonostante queste due fasi siano ordinariamente descritte come successive, occorre comprendere che in realtà le due tendenze alle quali corrispondono agiscono sempre simultaneamente, quantunque in proporzioni diverse. E talvolta, in certi momenti critici, in cui la tendenza discendente sembra sul punto di prevalere definitivamente nel moto complessivo del mondo, si verifica l'intervento di un'azione particolare che rafforza la tendenza contraria, in modo da ristabilire un certo equilibrio, quantomeno relativo e per quanto lo possano permettere le condizioni del momento, e tale da operare anche un parziale raddrizzamento per effetto del quale il movimento di caduta può apparire come fermato o temporaneamente neutralizzato. È facile comprendere che questi dati tradizionali, che qui dobbiamo limitarci a presentare in maniera molto sommaria, permettono di concepire delle vedute ben diverse da tutti i saggi di filosofia della storia, a cui si dedicano i moderni, vedute di ben altra vastità e profondità. Ma per il momento non pensiamo certo di risalire alle origini del presente ciclo e nemmeno più semplicemente agli inizi del Kali Yuga. Le nostre intenzioni, almeno in maniera diretta, si fermano ad un ambito molto più limitato e cioè alle ultime fasi del Kali Yuga. In effetti, all'interno di ciascuno dei grandi periodi di cui abbiamo parlato prima, è possibile distinguere delle ulteriori fasi secondarie che ne costituiscono altrettante suddivisioni e, siccome ogni parte è in qualche modo analoga al tutto, queste suddivisioni riproducono per così dire in scala più ridotta il moto generale del grande ciclo nel quale si integrano e anche in questo caso una ricerca completa sul come una tale legge possa applicarsi alle diverse situazioni particolari ci condurrebbe ben al di là dei limiti di questo studio. Per completare queste considerazioni preliminari accenneremo solamente ad alcune delle ultime epoche particolarmente critiche che ha attraversato l'umanità quelle che rientrano nel periodo che si usa a chiamare storico perché questo è effettivamente il solo che sia veramente accessibile alla storia ordinaria o profana e questi cenni ci condurranno in maniera del tutto naturale a ciò che costituisce l'oggetto proprio del presente studio dal momento che l'ultima di queste epoche critiche non è altra che quella costituita da ciò che si chiamano tempi moderni. Vi è un fatto alquanto strano che sembra non sia mai stato sottolineato come merita. Il periodo propriamente storico nel senso da noi prima indicato risale esattamente al VI secolo prima dell'era cristiana come se a quel punto si avesse nel tempo quasi una barriera impossibile da infrangere con l'aiuto dei mezzi d'indagine di cui dispongono i ricercatori ordinari. In effetti a partire da quest'epoca si possiede ovunque una cronologia molto precisa e chiaramente stabilita mentre per tutto ciò che è anteriore generalmente si giunge solo ad un'approssimazione molto vaga e le date proposte per gli stessi avvenimenti variano spesso di parecchi secoli e colpisce non poco il fatto che questo accada perfino per quei paesi di cui si possiedono ben più che delle semplici sparse vestigia come l'Egitto per esempio mentre la cosa che forse stupisce ancora di più è che in un caso eccezionale e privilegiato come quello della Cina che possiede degli anali relativi a delle epoche molto più lontane anali che sono datati per mezzo dell'osservazione astronomica e che quindi non dovrebbero lasciare adito ad alcun dubbio i moderni continuano a classificare tali epoche come leggendarie come se si trovassero al cospetto di un dominio per il quale non riconoscono a se stessi alcuna possibilità di certezza né alcuna possibilità di ottenerne l'antichità detta classica non è dunque a dire il vero che una antichità del tutto relativa e perfino molto più prossima ai tempi moderni di quanto lo sia l'antichità vera poiché essa risale solo alla metà del khaliuga la cui stessa durata in base alla dottrina hindù non è che la decima parte di quella del mavantara da questo si potrà giudicare a sufficienza fino a che punto i moderni abbiano ragione di andar fieri dell'estensione delle proprie conoscenze storiche ma costoro risponderanno senza dubbio a modi giustificazione che in tutto ciò si tratta solo di periodi leggendari ed è per questo che essi ritengono di non doverne tenere conto ma una tale risposta equivale esattamente ad una confessione di ignoranza e dimostra una incomprensione che è la sola che possa spiegare il loro disprezzo per la tradizione e in effetti lo spirito specificamente moderno non è altro che lo spirito antitradizionale come avremo modo di spiegare più avanti nel corso del sesto secolo prima dell'era cristiana sono avvenuti dei cambiamenti considerevoli presso quasi tutti i popoli quale che sia stata la loro causa e anche se essi hanno avuto delle caratteristiche diverse a seconda dei paesi interessati in certi casi si è trattato di un riadattamento della tradizione nei confronti di condizioni differenti da quelle che esistevano prima riadattamento compiuto in un senso rigorosamente ortodosso è il caso della Cina per esempio ove la dottrina anteriormente costituita da un unico insieme venne divisa in due parti nettamente distinte il taoismo riservato ad un'elite e comprendente la metafisica pura e le scienze tradizionali di ordine puramente speculativo e il confucianesimo comune a tutti indistintamente e il cui dominio comprendeva le applicazioni pratiche e principalmente sociali presso i persiani sembra che si sia avuto parimenti un riadattamento del mazdeismo fu quella infatti l'epoca dell'ultimo zeroastro in questo periodo in India nacque il buddismo che al di là di ciò che possa essere stato il suo carattere originario doveva invece sfociare almeno in alcune delle sue branche in una rivolta contro lo spirito tradizionale giungendo fino alla negazione di ogni autorità fino ad una vera anarchia nel senso etimologico di assenza di principio sia nell'ordine intellettuale che nell'ordine sociale la cosa curiosa è che in India non si trova alcun monumento che risalga prima di questa epoca e gli orientalisti che vogliono far cominciare tutto dal buddismo di cui esagerano singolarmente l'importanza hanno cercato di trar partito da questa constatazione a favore della loro tesi tuttavia la spiegazione del fatto è abbastanza semplice è che tutte le costruzioni anteriori erano in legno di modo che esse sono scomparse naturalmente senza lasciare alcuna traccia la cosa vera è che un tale cambiamento nel modo di costruire corrisponde necessariamente ad una profonda modificazione delle condizioni generali d'esistenza del popolo presso cui si è prodotto accostandoci all'occidente constatiamo che presso gli ebrei quest'epoca fu quella della cattività babilonese e la cosa che forse stupisce di più è che un breve periodo di 70 anni possa essere bastato per far perdere loro o perfino la scrittura tanto che in seguito dovettero ricostruire i libri sacri con dei caratteri del tutto diversi da quelli usati fino allora e si potrebbero citare ancora ben altri avvenimenti che si rifanno più o meno alla stessa data ricorderemo solamente che per Roma si trattò dell'inizio del periodo propriamente storico che era stato preceduto dall'epoca leggendaria dei re mentre si sa anche quantunque in maniera un po' vaga che presso i popoli celtici si produssero allora degli importanti movimenti ma senza voler insistere ulteriormente vediamo che cosa accadde in Grecia anche lì il VI secolo fu il punto di partenza della civiltà cosiddetta classica la sola alla quale i moderni riconoscono il carattere storico mentre tutto ciò che precede è molto mal conosciuto tanto da essere considerato come leggendario nonostante le recenti scoperte archeologiche non permettono più di dubitare che perlomeno vi fu una civiltà molto reale e noi abbiamo più di una ragione per pensare che questa prima civiltà ellenica fosse molto più interessante intellettualmente di quella che l'ha seguita mentre i loro rapporti presenterebbero qualche analogia con quelli esistenti fra l'Europa del Medioevo e l'Europa moderna tuttavia è necessario notare che la rottura non fu così radicale come in quest'ultimo caso poiché si ebbe almeno parzialmente un riadattamento effettuato nell'ordine tradizionale principalmente nel dominio dei misteri a cui bisogna ricollegare il pitagorismo che fu soprattutto una restaurazione del precedente orfismo sotto una nuova forma e di cui legami evidenti con il culto delfico dell'Apollo e Iperboreo permettono perfino di prendere in considerazione una filiazione continua e regolare con una delle più antiche tradizioni dell'umanità d'altra parte si vede subito apparire qualcosa di cui non vi era ancora alcun esempio e che doveva in seguito esercitare un'influenza nefasta su tutto il mondo occidentale intendiamo parlare di quel particolare modo di pensare che prese e conservò il nome di filosofia ed è questo un punto molto importante che merita alcune considerazioni il termine filosofia di per sé può certamente essere assunto in un senso molto legittimo che indubbiamente fu il suo senso primitivo soprattutto se è vero come si pretende che sia stato Pitagora ad impiegarlo per primo etimologicamente esso non significa altro che amore per la saggezza dunque inizialmente indicava una disposizione preliminare necessaria per pervenire alla saggezza e può anche indicare per naturale stensione la ricerca che partendo da questa stessa disposizione deve condurre alla conoscenza si tratta dunque di uno stadio preliminare e preparatorio di un incamminarsi verso la saggezza di un grado corrispondente ad uno stato inferiore a quello del saggio la deviazione che si è prodotta in seguito consiste nell'aver scambiato questo grado transitorio con lo scopo stesso e nell'aver preteso di sostituire la filosofia alla saggezza cosa questa che implica la dimenticanza o la misconoscenza della vera natura di quest'ultima è così che nacque ciò che possiamo chiamare la filosofia profana vale a dire una pretesa saggezza puramente umana quindi di ordine semplicemente razionale la quale ha preso il posto della vera saggezza tradizionale sopra razionale e non umana tuttavia qualcosa di quest'ultima rimase ancora nel corso di tutta l'antichità ne è la prova innanzitutto la persistenza dei misteri il cui carattere essenzialmente iniziatico non potrebbe essere contestato e poi il fatto che l'insegnamento degli stessi filosofi presentava ad un tempo e il più sovente un aspetto esoterico ed uno esoterico dove quest'ultimo poteva permettere il collegamento ad un punto di vista superiore cosa questa che peraltro si evidenzia in maniera molto chiara quantunque forse incompleta per certi aspetti alcuni secoli dopo presso gli alessandrini ora perché la filosofia profana venisse a costituirsi definitivamente come tale occorreva che rimanesse solo l'exoterismo e si giungesse fino alla negazione pura e semplice di ogni esoterismo ed è proprio in questo che doveva sfociare presso i moderni in movimento iniziato presso i greci le tendenze che si erano già affermate presso costoro dovevano essere spinte fino alla loro più estrema conseguenza mentre l'eccessiva importanza da essi accordata al pensiero razionale doveva accentuarsi fino a sfociare nel razionalismo due punti attitudine particolarmente moderna che consiste non semplicemente nell'ignorare ma nel negare espressamente tutto ciò che è di ordine sovra razionale ma non anticipiamo anzitempo poiché avremo modo di ritornare su queste conseguenze e di seguirne lo sviluppo in un'altra parte del presente studio in ciò che abbiamo appena detto una cosa è da tener presente in modo particolare dal punto di vista in cui ci poniamo due punti ed è che alcune delle origini del mondo moderno è opportuno ricercarle nell'antichità classica non si ha dunque del tutto torto quando ci si richiama alla civiltà greco-latina e quando si pretende di esserne continuatori occorre precisare tuttavia che si tratta solo di una continuità la lontana ed anche un po' infedele poiché malgrado tutto in questa antichità vi erano parecchie cose nell'ordine intellettuale e spirituale di cui non si potrebbe trovare l'equivalente presso i moderni e in ogni caso nel corso dell'oscuramento progressivo della vera conoscenza si tratta di due gradi assai differenti d'altronde si potrebbe supporre che la decadenza della civiltà antica abbia prodotto in maniera graduale e senza soluzione di continuità uno stato più o meno simile a quello che vediamo oggi ma in effetti non fu così poiché in occidente in un periodo intermedio si è avuta un'altra epoca critica che è stata al tempo stesso una di quelle epoche di raddrizzamento a cui facevamo allusione prima tale epoca è quella dell'inizio e dell'espansione del cristianesimo la quale ha coinciso da un lato con la dispersione del popolo ebraico e dall'altro con l'ultima fase della civiltà greco-latina e possiamo limitarci ad accennare rapidamente a questi avvenimenti nonostante la loro importanza sia perché in genere essi sono meglio conosciuti di quelli di cui abbiamo parlato fino ad ora sia perché il loro sincronismo è stato maggiormente messo in risalto perfino dagli storici dalle concezioni più superficiali molto spesso sono stati anche segnalati alcuni tratti comuni fra la decadenza antica e l'epoca attuale e senza voler spingere oltremodo il parallelismo si deve riconoscere che effettivamente vi sono alcune somiglianze assai marcate la filosofia puramente profana aveva guadagnato terreno l'apparizione dello sceticismo da un lato il successo del moralismo stoico ed epicureo dall'altro mostrano bene fino a che punto si fosse abbassata l'intellettualità al tempo stesso le antiche dottrine sacre che quasi nessuno comprendeva più erano degenerate proprio per tale incomprensione in paganesimo nel vero senso della parola vale a dire che ormai erano solo delle superstizioni delle cose che avendo perduto il loro significato profondo sopravvivevano a se stesse con delle manifestazioni tutte esteriori contro tale tendenza vi furono dei tentativi di reazione lo stesso ellenismo tentò di rivivificarsi con l'aiuto di elementi tratti da quelle dottrine orientali con le quali poteva trovarsi in contatto ma ciò non era più sufficiente la civiltà greco-latina era destinata a perire e il raddrizzamento doveva venire da un'altra parte e compiersi con una forma del tutto diversa fu il cristianesimo che compì tale trasformazione e lo diciamo di sfuggita il raffronto che si può stabilire sotto certi aspetti fra quei tempi ed i nostri è forse uno degli elementi determinanti del messianismo disordinato che si presenta attualmente dopo il periodo confuso delle invasioni barbariche necessario per portare a termine la distruzione dell'antico stato di cose venne reinstaurato un ordine normale per la durata di alcuni secoli fu il medioevo così misconosciuto dai moderni i quali sono incapaci di comprenderne l'intellettualità e ai quali quest'epoca deve apparire certamente molto più estranea e lontana che l'antichità classica il vero medioevo per noi va dal regno di Carlo Magno agli inizi del quattordicesimo secolo da quest'ultima data prende il via una nuova decadenza che attraverso tappe diverse andrà accentuandosi fino ai giorni nostri e questo il vero punto di partenza della crisi moderna l'inizio della disgregazione della cristianità con cui si identificava essenzialmente la civiltà occidentale del medioevo e ad un tempo la fine del regime feudale strettamente solidale con questa stessa cristianità e l'inizio della costituzione delle nazionalità occorre dunque far risalire l'epoca moderna a circa due secoli prima di quanto si faccia ordinariamente il rinascimento e la riforma furono soprattutto delle risultanti rese possibili solo dalla precedente decadenza ma lungi dall'essere un raddrizzamento esse segnarono una caduta molto più profonda poiché portarono a compimento la rottura definitiva con lo spirito tradizionale il rinascimento nel dominio delle scienze e delle arti la riforma nello stesso dominio religioso che tuttavia era quello in cui una tale rottura poteva sembrare più difficile da concepire in realtà ciò che viene chiamato rinascimento fu come abbiamo detto in altre occasioni la morte di molte cose col pretesto di un ritorno alla civiltà greco-romana si riprese di questa solo ciò che vi era stato di più esteriore solo quello che era stato possibile esprimere chiaramente nei testi scritti e d'altronde questo ritorno incompleto poteva solo avere un carattere molto superficiale poiché si trattava di forme che ormai da secoli avevano cessato di vivere la loro vera vita quanto alle scienze tradizionali del medioevo dopo aver avuto qualche ultima manifestazione nel corso del rinascimento scomparvero quasi totalmente al pari di quelle delle lontane civiltà annientate da un qualche cataclisma e questa volta nulla doveva rimpiazzarle non rimase altro che la filosofia e la scienza profane vale a dire la negazione della vera intellettualità la limitazione della conoscenza all'ordine più inferiore lo studio empirico e analitico di fatti non più collegati ad alcun principio la dispersione in una moltitudine indefinita di dettagli insignificanti l'accumulo di ipotesi senza fondamento che si distruggono incessantemente a vicenda vedute frammentarie che possono solo condurre a nulla salvo che a quelle applicazioni pratiche che costituiscono la sola effettiva superiorità della civiltà moderna superiorità poco invidiabile d'altronde la quale sviluppandosi fino a soffocare ogni altra preoccupazione ha dato a questa civiltà il carattere puramente materiale che ne fa una vera mostruosità la cosa del tutto straordinaria è la rapidità con cui la civiltà del medioevo è piombata nell'oblio più totale gli uomini del diciassettesimo secolo non ne avevano più la minima nozione ed i monumenti che di essa rimanevano non rappresentavano più niente ai loro occhi né nell'ordine intellettuale né tantomeno nell'ordine estetico e da ciò è facile giudicare quanto la mentalità fosse cambiata nel frattempo qui non intraprenderemo una ricerca dei fattori certo molto complessi che concorsero a questo cambiamento così radicale che sembra perfino difficile ammettere che si sia potuto effettuare spontaneamente e senza l'intervento di una volontà direttiva la cui esatta natura resta necessariamente molto enigmatica a questo proposito vi sono delle circostanze molto strane come quella che ad un certo momento coincise con la volgarizzazione e col presentare come delle nuove scoperte delle cose che in realtà erano note da lungo tempo ma la cui conoscenza non era stata resa fino ad allora di dominio pubblico a causa di certi inconvenienti che rischiavano di vincerla sui vantaggi aperta parentesi fra i fatti di questo genere che produssero le più gravi conseguenze citiamo solo due esempi la pretesa invenzione della stampa che i cinesi conoscevano ancora prima dell'era cristiana e la scoperta ufficiale dell'america con la quale nel corso di tutto il medioevo esistettero comunicazioni molto più frequenti di quanto generalmente si pensi chiusa parentesi altrettanto inverosimile è il fatto che la leggenda che fece del medioevo un'epoca di tenebre di ignoranza e di barbarie sia nata e si sia accreditata da sola e che la falsificazione della storia a cui si sono dedicati moderni sia stata intrapresa senza alcuna idea precostituita ma non ci addentreremo nell'esame di questa questione poiché qualunque sia il modo con cui un tale lavoro è stato svolto ciò che ci preme per il momento è la constatazione del risultato che in definitiva è quello che importa di più vi fu un termine che fu in auge nel rinascimento e che riassumeva in anticipo tutto il programma della civiltà moderna il termine umanesimo e in effetti si trattava di ridurre tutto a delle dimensioni puramente umane di prescindere da ogni principio di ordine superiore e per dirla simbolicamente di allontanarsi dal cielo con la scusa di conquistare la terra i greci di cui si pretendeva seguire l'esempio non si erano mai spinti tanto in questa direzione nemmeno al tempo della loro più grande decadenza intellettuale e da loro neanche le preoccupazioni utilitaristiche erano mai passate in primo piano come doveva ben presto accadere presso i moderni l'umanesimo era già un primo abbozzo di ciò che è divenuto il laicismo contemporaneo e col voler ricondurre tutto a misura d'uomo assumendo quest'ultimo come fine a se stesso si è finito per scendere passo dopo passo a livello di ciò che nell'uomo vi è di più inferiore fino a ricercare solo più la soddisfazione dei bisogni inerenti alla parte materiale della sua natura ricerca ben illusoria del resto poiché essa crea sempre molti più bisogni artificiali di quanti ne possa soddisfare giungerà il mondo moderno fino al fondo di questa china fatale o come accaduto per il mondo greco latino si produrrà un nuovo raddrizzamento prima che raggiunga il fondo dell'abisso verso cui è trascinato sembra proprio che un arresto a metà strada non sia più tanto possibile e che in base a tutte le indicazioni fornite dalle dottrine tradizionali si sia entrati veramente nella fase finale Kali Yuga nel periodo più oscuro di questa età oscura in quello stato di dissoluzione da cui non è più possibile uscire se non con un cataclisma poiché non è più di un semplice raddrizzamento che si ha bisogno ma di un rinnovamento totale il disordine e la confusione regnano in tutti i domini essi sono stati spinti ad un punto che oltrepassa di molto tutto ciò che si era visto in precedenza e partiti dall'occidente adesso minacciano ad invadere il mondo intero sappiamo bene che il loro trionfo non può mai essere che apparente e passeggero ma a un tale grado esso si presenta come il segno della più grave di tutte le crisi attraversate dall'umanità nel corso del suo ciclo attuale non siamo forse giunti a quell'epoca temibile annunciata dai libri sacri dell'India aperte virgolette ove le caste saranno mescolate e la famiglia stessa non esisterà più chiuse virgolette basta guardarsi attorno per convincersi che questo è lo stato in cui si trova realmente il mondo attuale e per constatare dappertutto quella decadenza profonda che il Vangelo chiama aperte virgolette l'abominio della desolazione chiuse virgolette non bisogna nascondersi la gravità della situazione bisogna considerarla per quella che è senza alcun ottimismo ma anche senza alcun pessimismo poiché come dicevamo prima la fine dell'antico mondo sarà anche l'inizio di un mondo nuovo a questo punto si pone un interrogativo qual è la ragione d'essere di un periodo come quello che viviamo e in effetti per anormali che siano le attuali condizioni considerate di per sé devono tuttavia rientrare nell'ordine generale delle cose in quell'ordine che secondo una formula estremo orientale è composto dalla somma di tutti i disordini quest'epoca per quanto penosa e fosca sia deve pur avere al pari delle altre il suo posto assegnato nell'insieme dello sviluppo umano ed altronde il fatto stesso che sia stata prevista dalle dottrine tradizionali è in proposito una indicazione sufficiente quanto abbiamo detto circa il moto generale di un ciclo di manifestazione che si svolge nella direzione di una progressiva materializzazione fornisce subito la spiegazione di un tale stato di cose e fa ben comprendere che ciò che è anormale e disordinato da un certo punto di vista particolare è non di meno la conseguenza di una legge relativa ad un punto di vista superiore e più vasto aggiungiamo senza insistervi ulteriormente che al pari di ogni cambiamento di stato il passaggio da un ciclo ad un altro può compiersi solo nell'oscurità anche qui si tratta di una legge molto importante e le cui applicazioni sono molteplici ma la cui esposizione anche appena dettagliata perciò stesso ci condurrebbe troppo lontano ma non è tutto l'epoca moderna deve necessariamente corrispondere allo sviluppo di alcune delle possibilità che fin dall'origine erano incluse nella potenzialità del ciclo attuale possibilità che per inferiore che fosse il posto da loro occupato nella gerarchia dell'insieme dovevano essere chiamate a manifestarsi al pari delle altre secondo l'ordine loro assegnato sotto questo profilo ciò che secondo la tradizione caratterizza l'ultima fase del ciclo è si potrebbe dire lo sfruttamento di tutto ciò che è stato trascurato o rigettato nel corso delle fasi precedenti ed effettivamente è proprio questo che possiamo constatare nella civiltà moderna la quale vive in qualche modo di ciò che le civiltà anteriori avevano rifiutato per rendersene conto basta vedere in che modo i rappresentanti di quelle civiltà che si sono conservate fino ad oggi nel mondo orientale valutano le scienze occidentali e le loro applicazioni industriali queste conoscenze inferiori così vane per chi possiede una conoscenza di altro ordine dovevano tuttavia essere realizzate e potevano esserlo solo ad uno stadio in cui la vera intellettualità fosse sparita queste ricerche dalla portata esclusivamente pratica nel senso più ristretto del termine dovevano essere compiute ma potevano esserlo solo all'estremo opposto della spiritualità primordiale da degli uomini sprofondati nella materia al punto da non riuscire a concepire nulla al di fuori di essa e ridotti ad essere tanto più schiavi di questa materia per quanto vorrebbero servirsene cosa questa che li conduce ad un'agitazione sempre crescente senza freno e senza scopo alla dispersione nella pura molteplicità fino alla dissoluzione finale tratteggiata per grandi linee e ridotta all'essenziale è questa la vera spiegazione del mondo moderno ma va detto molto chiaramente che questa spiegazione non potrebbe minimamente essere presa come una giustificazione un male inevitabile resta pur sempre un male e perfino se dal male deve scaturire un bene ciò non toglie nulla al carattere stesso del male peraltro noi impieghiamo qui questi termini di bene e di male solo per farci comprendere meglio e al di là di ogni intenzione specificamente morale i disordini parziali non possono non esserci perché sono elementi necessari dell'ordine totale ciò malgrado un'epoca di disordine è di per sé qualcosa di paragonabile ad una mostruosità la quale pur essendo la conseguenza di certe leggi naturali non per questo non rimane una deviazione ed una sorta di errore o di paragonabile ad un cataclisma il quale pur derivando dall'ordine naturale delle cose resta comunque visto isolatamente uno sconvolgimento ed un'anomalia la civiltà moderna come tutte le cose ha necessariamente la sua ragion d'essere e se essa è veramente quella che conclude un ciclo si può dire che è ciò che deve essere e che sopraggiunge a tempo e a luogo ma non per questo non dovrà essere giudicata secondo la parola evangelica troppo spesso mal compresa aperte virgolette è inevitabile che avvengano scandali ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo chiuse virgolette ok Grazie.